eccola qua che bella mia mia lostia guardi che sei con me stanno fuori a me la mia bruno figli di puttana chi si chiama fin a stasera questo pacchetto? mi non vi faccio come lo capri tu? oh cazzo dove fucci? bella la mia questo ciò per te per me per te la parola la parola la parola ecco l'era per ciao pericare ahahah però non voglio e io questo lo portavo per fornazzo guarda che riesce bene mi sposti da spazio ma vediati un'ambracca non metti su o più fuoco o più fuoco o più fuoco o più fuoco vediamo se la buttano se la buttano 6.000 torna a vincere ehi Camino te l'ho bussata una sigaret tu no no non l'ho bussata e qua verrà fumata cacchiamo oddio da 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 piccola del parco Mimmo 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 L'anima del quinto P Domenico oddio loretta 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 vorrei vedere quel giorno rappresentazione lascia ma vado b o 3 4 4 4 5 6 Spira! Pa-pa-pa-pa-pa.... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Coniglio diessono scappa! Coniglio diessono scappa! E quindi? Eh, appunto! Osami è fina! Osami è fina! Bussati, che piaci! la prima volta il rarroco la parola la parola la parola la parola ieri la parola la parola la parola per il barbara il tempo per la parola il mio non è che vuoi decidere la roba perché vuoi decidere la ritorno della manna e boccia non c'è l'esercito non c'è l'esercito per la ritorna ma non c'è l'esercito per farlo è la prima persona che ha modificato bravo bravo la mano la ritorno il barbara quando ieri 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 il barbara il barbara l'uomo di migliorare il periodo per la mia mamma maria raccomandare la leggera la traccia il prima di dire la prima di dire rs il nei no r no nero del r r non e ora Danielda ora modalamente giudICAL io'dora 해요 dell'app only canadiene globo lugubo a carregando esta la lombardo bisogna